Di presentazione della ventunesima edizione della festa della birra artigianale, il motore di tutta questa manifestazione è il punto di Bayonissi, qui il Presidente Antonio Aliberti, ecco una conferenza stampa ricca di novità, dove il punto soggetto principale è la birra, cosa vogliamo sottolineare? Hai detto benissimo, il motore è l'associazione e quindi sono tutti i volontari, noi siamo il Presidente, ma rappresento tutti i volontari che lavorano gratuitamente in questa manifestazione. Questa festa della birra è cresciuta, è cresciuta moltissimo, oggi questa manifestazione conta più di 100 birre che portiamo alla degustazione, questo ci tengo, è una cosa importante che noi su tutti i nostri manifesti e su tutta la nostra pubblicità, cioè bevi con moderazione c'è più gusto, questo è il nostro motore. Da noi si bevono esclusivamente con bicchieri da 200 e da 300, non ci sono da litro, non ci sono altre cose, noi siamo per la degustazione della birra. Abbiamo 21 stand dove ci sono oltre 50 prodotti gastronomici solo campani e dove abbiamo oltre 100 birre che sono solo campane e sono rappresentate esclusivamente dai produttori. ci saranno sotto gli stand direttamente il banchetto di ogni birrificio e potremo assaggiare e sentire anche da parte dei produttori come si abbina quella birra e come deve essere bevuta.